Ecco cosa resta di me, devastazione, distruzione, senso di abbandono e di fallimento, è una domanda che mi tormenta. Come è potuto accadere? Come ho potuto? Come ho potuto permettere che mi si facesse questo? Come ho potuto credergli? Ho creduto, ho creduto alle sue promesse pur sapendo in cuor mio che il suo era il progetto di un folle. Nessuno ha fermato la sua bramosia di possedermi, nessuno si è reso conto veramente di quello che mi stava facendo, anzi erano tutti contenti, lo hanno accolto come un re, come un benefattore. In realtà era solo il nostro padrone, ci ha comprati tutti. Si è presentato questo signore qua e con una sessantina di milioni allora ha compratto tutto il paese, vivi e morti. Grazie a tutti.